Piccola premessa prima del video ragazzi, questo trickshot, questo mini video che ho trovato sul mio vecchio computer Che sto facendo un attimo un backup su quel computer, ho trovato questo video, l'ho guardato e mi sono fatto troppe risate E niente, volevo condividerlo con voi ragazzi, spero vi piace e soprattutto non prendetevi in giro perché tutti siamo stati agli inizi Spero che il mio sia stato come il vostro, al limite so già che sarà molto peggio Comunque vi lascio il video, ciao Bella ragazzi, qui ecco giù è l'impresa di fare i più grandi tempi shot italiano mai visto Allora, vd player, i love vd player Ok, twist Ok no, scendiamo Dove essere una cosa molto complicata Dove essere una cosa molto complicata No 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 Cazzo Eroll Jay Dove essere una cosa운데 ok, prendo l'elettivo a vuoto, namo al secondo oh che dai vieni dove sta, dov'è? oh che ti devi mettere qua, te li metti non fai oh che te l'ho preso, te l'ho preso dai regà oh mio dio ragazzi, mi è proprio venuto il trickshot ringraziamo RVD Player ringrazio tutti i miei fan anche se non ce ne ho, perfetto mettete mi piace il video e se volete iscrivetemi anche se non c'è un canale, perfetto era super profitto questo trickshot bella ragazzi, ciao a tutti ciao da Gioele, a posto raga